Salve a tutti e benvenuti all'interno di questo nuovo video del calcio al bar, questo è il primo contenuto si spera di tanti in cui andremo a trattare temi scottanti di mercato che hanno infiammato proprio gli animi dei tifosi nel corso di questa sessione, prima di cominciare però vi chiedo di lasciare un bel like e una bella iscrizione proprio per sostenere e per supportare il canale, anche un bel commento per farmi sapere che cosa ne pensate, inoltre vi ricordo che in descrizione potete trovare il link dello store online FANS, FANS è uno store online che vende principalmente vestiario sportivo quindi magliette, felpe, anche cover di cellulari davvero molto belle, raffiguranti personaggi stilizzati del mondo dello sport e soprattutto campioni di E-class, inoltre potete trovare in descrizione un piccolo regalo che vi facciamo noi youtubers, se vi iscrivete alla mailing list di FANS e al tempo stesso inserite al checkout il codice sconto che trovate proprio nella stessa descrizione potete ottenere un 20% di sconto e ringrazio ancora una volta FANS per averci aiutato nell'organizzare proprio l'evento relativo al calcetto degli youtubers. Andiamo però nel vivo della questione, con questo contenuto affrontiamo il passaggio di Serghei Mirinkovic-Savic dalla Lazio alla Lila, l'operazione che si è concretizzata in 40 milioni cash alla Lazio e al tempo stesso 20 milioni a stagione per 4 anni al giocatore. Beh che dire, dal punto di vista economico è sicuramente un'operazione vantaggiosa per la Lazio perché Lutito aveva chiesto tra i 35 e 40 milioni e tutti gli sono stati conferiti e dunque con questo gruzzoletto la Lazio potrà fare mercato, si parla già anche di nomi interessanti proprio per rinforzare sia il centrocampo che l'attacco dunque per prepararsi in vista della prossima Champions e dunque occhio ai colpi adesso che potrebbe piazzare lo stesso Claudio Lutito per rinfiammare un ambiente Lazio che in parte è anche rimasto demoralizzato dalla cessione del giocatore serbo. Dall'altra sulle motivazioni personali a noi non interessa entrare perché quelle attengono solamente al singolo calciatore. Però il calcio italiano perde uno dei suoi protagonisti nel corso degli ultimi anni, centrocampista completo la cui fisicità si fa sentire in un campionato tra l'altro molto tattico come il nostro e quindi noi perdiamo uno degli assoluti protagonisti e dunque la Serie A si impoverisce a livello tecnico. Per quanto riguarda il calcio europeo nel corso di questa sessione sono andati via anche Karim Benzema anche se vogliamo non la stessa cosa però Lionel Messi è andato a giocare nell'Inter Miami dunque nel MLS nel campionato americano dunque è un impoverimento tecnico molto preoccupante per il calcio europeo e inoltre lo stesso Mirinkovic Savic poteva, aveva l'opportunità di comportarsi differentemente, poteva non rinnovare con la Lazio e dunque sarebbe stato svincolato al termine della prossima stagione e libero di siglare un nuovo contratto con una squadra magari top club a livello europeo e poteva dunque disputare anche la prossima stagione proprio con i bianco celesti e giocarsi la prestigiosa Champions League e dunque anche la Lazio molto probabilmente ne avrebbe beneficiato di avere un giocatore con le sue doti e le sue qualità soprattutto per tentare di passare il turno dunque accedere agli ottavi di finale ma detto questo Milinkovic andando in Arabia dimostra come in realtà il campionato italiano non offra più gli stimoli ai giocatori migliori per restare in molti magari vanno in Premier League per giocare su altissimi livelli vedi anche la cessione di Tonali ma anche quella di Vicario e non solo in molti magari a fine carriera tentano una strada o comunque un'avventura diversa vedi il caso di Lorenzo Insigne dopo la rottura con il Napoli ma non solo qui stiamo parlando di un giocatore 28enne nel pieno della sua carriera che poteva giocare ancora su alti livelli per molti anni e cosa si può fare dunque per rilanciare credibilità e prestigio del nostro calcio del calcio italiano sicuramente grandi soldi non ce ne sono e dunque l'unica via possibile da percorrere è quella dei giovani 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 metterli inserirli dare loro modo anche di sbagliare anche perché comunque lo abbiamo visto abbiamo una buona generazione quella del mondiale under 20 quella dell'europeo under 19 quindi è tutta una speranza per il movimento calcistico futuro qui i giovani vengono subito paragonati magari a grandissimi nomi del calcio però poi quando sbagliano si passa dalle stelle alle stalle dunque secondo me c'è veramente poca poca pazienza nell'aspettare io ragazzi sono giunto a termine commentate fatemi sapere la vostra opinione relativamente a questo argomento io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video sempre qui sempre su il calcio al bar grazie e alla prossima andando in arabia milinkovic dimostra come il campionato italiano non offra più le giuste le giuste motivazioni giusti giusti stimoli ciao 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 ciao